Musica Grande successo per la seconda edizione del concorso conservatorio Francesco Cilea. I talenti di scena al teatro Francesco Cilea, ma più di un concorso, questo è un percorso culturale. Sono particolarmente felice ed emozionata, intanto rivedere i ragazzi esibirsi, poi al Cilea è assolutamente, sono andata dietro le quinte, c'è un fervore, sono agitatissime per questa esibizione. E' particolarmente orgogliosa perché l'anno scorso ha vinto una mia allieva, il primo premio, Carmen Cardile, e quest'anno un altro allievo che è Domenico Cagliuso. Quindi sono orgogliosamente soddisfatta dei risultati ottenuti, ma a prescindere da questo sono veramente contenta che i ragazzi affrontino questa sfida, questo confrontarsi fra di loro. E quindi fare musica è la cosa che li rende felici, che li rende vivi. Dopo anni, insomma, sappiamo, è inutile ripeterci, di Covid. Quindi particolarmente emozionata e soddisfatta. Tutti i nostri giovani meriterebbero di essere premiati per una serie di motivi. Fare il musicista a Reggio è molto più complicato che farlo altrove, perché qui bisogna fare dei sacrifici inenarrabili, anche perché molti vengono dalla provincia, i collegamenti sono quelli che sono, quindi a difficoltà si aggiunge difficoltà. Questi ragazzi sono talentuosi molto, non lo dico io, perché sarebbe, come dire, una cosa quasi scontata. Lo dicono anche i più grossi direttori d'orchestra. Non dimenticate che quando è venuto il maestro Riccardo Muti qua a Reggio, li ha visti e sentiti, ha detto testualmente, proprio qui in questo stesso teatro, ma questi sono musicisti davvero. E quindi diciamo che questa performance giova per premiare quelli più bravi, ma bravi sono tutti. Ed è un momento di allevatissima cultura, nel luogo dove la cultura deve avere spazio, che è il teatro cilera.